Analizzare architetture per l'interazione ottimale tra gestore della rete di trasmissione TSO e gestore della rete di distribuzione TSO nello scambio di informazioni per il monitoraggio e per l'acquisizione di servizi ancillari, bilanciamento, regolazione di tensione, gestione delle congestioni. E questo è il principale obiettivo di SmartNet, il progetto europeo promosso nel quadro di Horizon 2020 da un consorzio di 22 partner provenienti da 9 diversi paesi europei e guidato dal Centro di Ricerca Italiano RSE, Ricerca sul Sistema Energetico, che prevede un finanziamento complessivo di oltre 12 milioni di euro. Nell'ambito del progetto, presentato martedì 26 gennaio a Milano nella sede di RSE, verranno messe a confronto tre architetture di rete basandosi su altrettanti casi nazionali rappresentativi delle diverse realtà, quello italiano, quello danese e quello spagnolo, come ha spiegato Gianluigi Migliavacca, RSE Project Coordinator Italy. Il progetto ha come scopo quello di analizzare i meccanismi, che noi chiamiamo architetture, di interazione tra gestori della trasmissione e della distribuzione in modo tale di rendere possibile in modo ottimale questa interazione. Analizzeremo diverse architetture e analizzeremo in particolare tre casi nazionali, il caso italiano, il caso spagnolo e il caso danese, per i quali particolarizzeremo questa situazione con degli scenari ad hoc, diciamo, che tengono conto delle diverse caratteristiche vuoi del parco di generazione e di carico, ma anche regolatorie dei singoli paesi. In particolare, il progetto svilupperà delle simulazioni su una piattaforma software e poi le implementerà in laboratorio, con una replica parziale che prevede l'inclusione di elementi hardware di controllo forniti da un manufacturer. Verranno inoltre sviluppate tre demo fisiche. Oltre a questa analisi delle architetture abbiamo anche un ulteriore aspetto, che sono tre pilot tecnologici che agiscono in contemporanea. Uno riferito all'Italia e riguarda la gestione, diciamo, del monitoraggio di dati provenienti dai produttori, da piccoli produttori posti nella zona del distributore Selnet in Alto Adige, che vengono fatti risalire fino alla rete di trasmissione per renderli disponibili al TSO, quindi a Terna, per il monitoraggio. Questo è uno dei pilot. Gli altri due pilot, uno è quello sulle piscine indoor e l'accessibilità termica che queste possono fornire, ed è un pilot danese, con partner danesi. Il terzo pilot invece è spagnolo ed è coinvolto a Vodafone, quindi riguarda la possibilità di fornire servizi di flessibilità da parte di Radio by Stations, che sono degli apparati che servono per le telecomunicazioni, che sono sparsi sul territorio e hanno delle piccole unità di storage locali. Soddisfatto Stefano Besseghini, presidente e amministratore delegato di RSE, che ha sottolineato una duplice valenza del progetto, la prima legata alla sua genesi, la seconda ad aspetti di tipo tecnico. Dunque, noi siamo molto contenti di ospitare il lancio di questo progetto SmartNet, perché in effetti ha due valenze. La prima, quella della sua genesi, è un progetto che è nato all'interno di uno sforzo di coordinamento europeo tra centri di ricerca all'interno della cosiddetta ERA, che è la Energy Europe Research Alliance, che ha permesso di identificare i partner e di costruire delle solide relazioni con gli stakeholder industriali, che è una condizione ormai irrinunciabile per il successo di progetti europei. Il secondo è la valenza tecnica del progetto, perché prefigura quello che è il grande scenario dell'interazione tra le grandi reti di trasmissione e le reti locali di distribuzione, come il punto nevralgico da mettere a fuoco, da far evolvere, per permettere l'implementazione del nuovo sistema energetico, che dovrà tener conto di una generazione distribuita sempre più diffusa. Tra i principali partner del progetto, che avrà durata triennale da gennaio 2016 a dicembre 2018, i TSO Terna ed Energinet danese, i DSO Celnet, Nifors ed Endesa, i manufacturer Siemens Italia, Celta ed Eurisco, Vodafone per la parte inerente alle telecomunicazioni, e altri centri di ricerca europei, tra cui la Florence School of Regulation, un progetto dello European University Institute. In particolare, alla Florence School of Regulation, spetterà il ruolo di comunicare il progetto. Il nostro ruolo sarà fondamentalmente quello di diffondere il più possibile le informazioni su questo progetto, usando tutti quelli che sono i nostri strumenti a disposizione, sia online che tramite l'organizzazione di workshop, conferenze e così via. Grazie a tutti!